Coronavirus, come da disposizione regionale, aumentano i controlli presso le stazioni ferroviarie in merito ai nuovi arrivi. Alla stazione di Battipaglia, come annunciato dalla sindaca giacidia francese, la polizia municipale, coordinata dal comandante Gerardo Giuliano nella salata di ieri ed anche oggi e nei prossimi giorni, controllerà gli arrivi presso la stazione ferroviaria. La sindaca inoltre ha scritto Le postazioni sono disposte dal comune di Battipaglia, d'intesa con la nostra polizia municipale, le forze dell'ordine, la polfer e la protezione civile, il dibattimento di prevenzione dell'asolo, croce rossa e protezione aziendale RFI, e servono ad assicurare l'identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la misurazione della temperatura corporee e successive ad embimenti previsti.